Minecraft ma con la difficoltà è impossibile Vediamo cosa riesco a fare Ok, startiamo il mondo Inizia che è già notte Oh, Creaver Supercar Oh, appena iniziato a giocare Oh Tutti gli zombie sono mini e guarda che armature hanno I ragni hanno una velocità infinita Un maiale è desponato e ne ha perso un cartello Oddio un villaggio Finalmente un luogo sicuro Non posso rompere il legno Mi dice che mi dovrei fare di tool Ma come faccio? Prendo del danno però riesco più o meno a raccogliere il legno No, ho mangiato troppo Anche nel gioco e ho lentezza Ho cibo, perfetto Direi di esplorare, andiamo con una barca Ok Oh, cosa succede? Oh, aiuto, aiuto Perché? Perché il ghiaccio mi sta facendo questo? Dai Ce la posso fare A salvarmi Secondo voi cosa dovrei fare per sopravvivere? Oppure chi youtuber vorreste che gli inviti per farmi dare una mano?